sta per compiere 50 anni l'atto con cui l'abbazia di novalesa nel 1972 fu salvata dall'abbandono quella che un tempo era la provincia di turino oggi città metropolitana l'acquistò ormai faticente e l'anno dopo l'affidò alla comunità monastica da allora il gioiello di arte storie e cultura della valcenischia è tornata a rifiorire e si sono susseguiti gli interventi di recupero e restauro che proseguono anche oggi sempre con la supervisione e la collaborazione della soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio della città metropolitana siamo nel chiostro dell'abbazia di novalesa un gioiello di storia arte e cultura di cui città metropolitana che è proprietaria è molto orgogliosa con la soprintendenza il lavoro è costante e comune a che punto siamo per dare luce a questo gioiello? Sì siamo direi a buon punto come lei diceva l'abbazia è un luogo magico è un luogo di storia millenaria con però tutta una serie di superfettazioni e quindi di stratigrafie che rendono complesso il complesso abbaziale e quindi va come dire regolamentata anche tutta questa nuova ripresa di interventi di restauro e di interventi di manutenzione di restauri precedenti che questo rapporto con la proprietà e quindi anche con i tecnici della provincia sta dando grandi frutti abbiamo un bando grazie a compagnia che è il bando prima che è stato inserito in questa programmazione di recupero di alcune parti che necessitano ancora di grandi interventi proprio perché partendo dalla cappella di Sant'Eldrado e quindi partendo dal 2011 avevamo già lì quello che il bando prima vuole dimostrare e quindi ricerca, studio, programmazione, di restauro, manutenzione perché il bando prima è sulla manutenzione programmata una parola di cui tanti parlano noi parliamo tanto in Italia non è ancora così diciamo arrivata dappertutto e quindi formazione sociale, socialità, quindi questo ascolto, quindi una comunità che risponde, risponde bene ci sono questi monaci che hanno rinverdito l'abbazia e la comunità quindi che poi aiuterà con le visite guidate, col volontariato a gestire la fruizione di questo luogo quindi noi come tecnici ci occuperemo di questa manutenzione appunto programmata su restauri che la sovrintendenza ha sempre seguito dagli anni 80 ad oggi e stiamo lavorando molto bene La compagnia di San Paolo all'interno del bando prima, prevenzione, ricerca, indagine, manutenzione e ascolto per il patrimonio culturale ha selezionato e finanziato tra gli altri il progetto sugli intonaci dipinti del complesso di Novalesa dal restauro alla conservazione preventiva Un tavolo di lavoro si è riunito nelle stanze dell'abbazia per confrontarsi sugli interventi